Buonasera a tutti. E' dall'inizio dell'anno. E' un po' percibio bene. E' un po' percibio. Percibio bene. 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 3 4 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 17 17 18 19 19 20 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 22 22 23 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 22 25 25 25 26 25 25 E che affamante dove sei E che affamante dove sei andiamo è andata ora poi è natale arriva andiamo un po' e' un po' la cascola 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 è natale è facile è facile è facile no, è più un set, più 16 anni è prima, più 16 è》 vieni 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 no sorpresi no sorpresi vieni 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.